Ciao ragazzi, Antonio Rico di lezioni di chitarra moderna.com in questo video parliamo del sound di Jimi Hendrix e come poter ottenere il suo sound utilizzando diversi pedalini qui siamo con Guitar Rig, è uno dei software che utilizzo quando registro le chitarre ma ovviamente puoi utilizzare qualsiasi pedaliera o pedalini o effetti vari che già possiedi innanzitutto vorrei giusto consigliarti di andare a vedere i video nella playlist questo video appartiene a una serie dedicata proprio allo stile di Jimi Hendrix e quindi se vuoi imparare alcuni dei suoi leaks e riff ti consiglio di andare a dare un'occhiata alla playlist e poi non dimenticarti se sei nuovo da queste parti ti consiglio anche di iscriverti al canale qui si parla di chitarra quindi se vuoi imparare questo è il posto giusto ok benissimo andiamo a vedere questo preset che ho preparato adesso è quello che ho utilizzato nel video di Hey Joe ok questo tipo di sound pulito questo qui in effetti è un suono molto pulito vediamo come lo stiamo ottenendo ovviamente sto utilizzando una Stratocaster come avrai visto sicuramente dal video che so che diligentemente sei andato a vedere e allora qui abbiamo un Hot Plex in effetti il compressore e il distorsore sono spenti avrei potuto accendere un pochettino il compressore per dargli un po' più di vavavuma ecco come puoi sentire c'è un pochettino più di presenza però in questo caso l'avevo spento niente praticamente abbiamo l'Hot Plex che è un Plexi è la simulazione di un Marshall Plexi questi qui sono i setting come puoi vedere questo secondo volume come aggiunge un pochettino di distorsione è infatti molto basso perché vogliamo ottenere un suono pulito e loro lo chiamano Hot Plex perché c'è già un Plex nella simulazione del Guitar Rig però Hot Plex per avere un suono un pochettino più aggressivo questo è il... però in effetti è una simulazione di un Marshall quindi qualsiasi simulazione di Marshall andrà bene qui come puoi vedere abbiamo un microfono a condensatore questo è quello che è stato scelto volendo uno potrebbe andare a un dinamico queste sono le due opzioni che questo software ci offre al momento in questa configurazione questo qui è un cabinet e niente poi andiamo direttamente in un Tape Echo che in effetti non sto utilizzando l'Echo come puoi vedere qui è molto basso vediamo se c'è no non c'è ecco qui c'è soltanto il Reverber c'è un pochettino di Reverber perché i Marshall sono rinomati per non avere il Reverber quindi giusto per darci un po' di spazio una sensazione di spazio come puoi vedere qui c'è ben poco Reverber nel suono questo qui è il volume del Reverber è molto basso e qui la cosa carina è che ci dà anche la simulazione simulazione delle Spring quindi delle molle è un Reverber a molle questo qui e quindi ho giocato un pochettino qui con la lunghezza delle delle molle per evitare che fosse troppo presente se vedi alzando qui il Reverber è molto più ampio ok invece lo avevamo un pochettino meno presente così da avere giusto un pochettino di Reverber ma che non non camuffa troppo il suono certe volte avere un Reverber troppo presente puoi in effetti camuffare il suono originale della chitarra allora lì potremmo avere dei problemi ok quindi questo qui è il il suono del suono plito per il suono distorto accendiamo il compressore e il distorsore questo qui è una leggera compressione che sto aggiungendo molto molto lieve e poi c'è un distorsore questo qui è una simulazione di un boss di una distorsione del boss DS1 se non sbaglio e poi niente abbiamo di nuovo il nostro Plexi questa volta aggiungiamo un pochettino più di colore con questo secondo volume che è diciamo un gain e poi cosa abbiamo qui sempre la nostra cassa con il microfono e poi il nostro Reverber quindi ecco in effetti è alquanto semplice Jimi Hendrix aveva un setup alquanto semplice distorsione, amplificatore e chitarra quindi ecco questo qui è un sistema per poter cercare di simulare il suo sound questo qui è il suono che ho utilizzato in Foxy Lady e Purple Ace facciamo il volume un po' ok questo qui è il tipo di sound diciamo che questo setup ci può dare ovviamente tu puoi utilizzare qualsiasi pedalino tu voglia e ti consiglio di sperimentare un pochettino con la strumentazione che hai e cercare di simulare questi tipi di suoni ok ragazzi questo è quanto per il momento mi raccomando non perdere la serie su Jimi Hendrix vagli a dare un'occhiata e se questi video ti stanno aiutando a migliorarti con la chitarra cortesemente clicca mi piace condividili con i tuoi amici sui social media se hai delle domande puoi sempre lasciare un commento e niente ci vediamo alla prossima ciao